raga non avete idea di quello che è successo qui sul canale di voler vi avevo promesso che vi portavo driver 1 in 4k e driver 1 in 4k vi ho portato ragazzi andiamo a vedere un po che cosa abbiamo combinato con le nostre modifiche ragazzi sono riuscito a mettere un po in serba un miglioramento per questo emulatore e adesso lo possiamo guardare in 4k finalmente ragazzi un gioco che davvero ha il suo valore ovviamente lui parte da prima di poco ci interessa perché chiudiamo riapriamo abbiamo il nostro carissimo iso ed è come avete visto un piccolo spezzone che è partito improvvisamente il gioco è davvero sublime con questa modalità quindi vi consiglio davvero di venire su questo canale perché lo troverete adesso in 4k mi dispiace che il vecchio gioco driver 2 non sono riuscito a pensarci prima se ci pensavo prima vi portavo anche driver 2 in modalità 4k mi è dispiaciuto molto mi è dispiace però ci stiamo sistemando su questo purtroppo quando vedrete questa modifica se ne si parlerà della lo dico subito ragazzi ah non ci fate a casa i video i video purtroppo rimangono sempre con quella qualità non migliorano purtroppo sono filmati e non si riesce a migliorare maggiormente ovviamente questo filmato se non mi sbaglio ve l'ho fatto anche già vedere quindi possiamo andare avanti allora volevo dirvi quando uscirà il prossimo episodio di driver 1 uscirà il 5 gennaio 2021 incredibile ragazzi sarà il 5 gennaio 2021 quando vedrete questo video ovviamente sempre alle ore 18 e 30 oggi invece 2 dicembre quindi se ne falla proprio l'anno prossimo ma ora senza la parola siamo noi però davvero non ci interessa più di tanto quando uscirà e quando non uscirà ovviamente di mettere il titolo 4k driver 1 mi raccomando ragazzi mi raccomando che vi faccio davvero godere con questo gioco vi faccio davvero godere il colpo di madox guardate qua guardate qua ragazzi guardate che miglioramento guardate le strade c'è ragazzi voi voglio io soltanto aumentato un po' la grafica ok come potete osservare io ho aumentato solamente la grafica ma la playstation 1 ragazzi cioè la playstation 1 faceva questo guardate gli effetti guardate a terra cioè ragazzi al meglio di GTA 5 cioè guardando che la playstation 1 un cazzo di miglioramento poteva mai fare guardate aumentando giusto giusto un po' sembra tutto un altro gioco adesso incredibile incredibile perché l'hanno fatto così bene all'epoca e dico così bene che migliorando solo di poco esce un capolavoro dei video games ragazzi esce un capolavoro dei video games davvero non davvero sublime sublime ragazzi davvero sublime quello che stiamo vedendo davvero sublime uno dei migliori giochi per prestation 1 ragazzi driver bello bello molto meglio di GTA ovviamente perché all'epoca era con quella visuale da batto questo piccolo particolare della visuale dall'alto onestamente non l'ho mai capita più di tanto cioè che scopo fare la visuale da volto cioè gli altri giocheri hanno tutti della visuale normale no? questa qua ma standard un po' in tutti i giochi è questo o a massimo in prima persona anche se la playstation 1 in prima persona mi sembra che non c'era quasi nessun gioco oppure c'era un video mi sembra di nuovo ok dobbiamo riandare allo stesso posto di qui dell'altra volta questa volta è notte ok ma è bello ragazzi veramente non potete capire ragazzi l'emozione per vedere questo gioco con questa qualità davvero è è un qualche cosa riuscire a vedere così guarda no no ragazzi dovete prima ci sono entrati ragazzi voi guardate i video precedenti dove ci siamo entrati quando non si vedeva niente non era così non era così ragazzi non era così ma no ma no ragazzi non era così pure che non ce la faccio quindi oh cioè ragazzi non era così che ne è di più stagene eh guardate 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 voi guardate il video precedente ditemi se era così a me non mi sembra che era così come mi hanno fatto a peccare la polizia ah ci sono un felone sono un felone ragazzi che significa felone ma da dove escono questi tempi questa terminologia terribile ricordiamoci che qui in questo gioco le macchine si rompono un po' più facilmente è un po' più realissimo su questo perché rispetto a driver 2 ci mettiamo in eternità per distruggere la macchina potevi andare a 600 km ora non si rompiva poi in massimo se va a 600 km ora si distrugge letteralmente la macchina quindi è un po' più realistico dobbiamo fare i giochi realistici ragazzi incredibile questo qua che è uscito prima è fatto meglio rispetto a driver 2 che poteva essere molto ma molto meglio poi che l'hanno fatto su due dischetti ragazzi cioè questo è l'unico disco e guardate qui che qualità guardate qui ma pure la storia è vero non si può scendere dalla macchina l'unica picca però davvero qualità di storia stiamo là però a qualità di diciamo verezza del gioco perchè questa è verezza perchè il fatto che uno va a sbattere in faccia un muro si deve distruggere la macchina ma nel senso che la macchina resiste ok che non si distruggi proprio in modo eccessivo eccessivo dovrebbe essere comunque si massacra e ora possiamo vedere un altro posto di blocco ho rotto le palle loro a questo posto di blocco secondo me ho sbagliato anche strada perchè credo mi sfoglio il tag in modo ovvero il contro ah ricordiamoci che investire le persone in questo gioco non esiste ma nemmeno nel secondo tra l'altro quindi più di tanto non ho capito che miglioramento hanno fatto cioè oltre al fatto che si poteva scendere dalla macchina qui stanno fatti i miglioramenti perché si poteva scendere dalla macchina questo è stato l'unico miglioramento infatti in 3 minuti due dischetti davvero sprecati ragazzi davvero sprecati ci sono rimasto male ci sono rimasto davvero ovviamente per fare un gioco del genere immaginavo che ci volevano due dischetti scendere dall'auto entrare dall'auto salire dall'auto scendere dall'auto scendere 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 salire salire ok perfetto sono arrivato al teatro cinese ok allora io mi sono ricordato una cosa importantissima ogni volta che arriviamo qua è meglio prendere e salvare direi perché ah non posso salvare salvare salva figlia perché non posso salvare? è tutta una premiamo F1 non posso salvare c'è mai possibile rinvitare la memory card? ricordiamoci che la memory card era tipo 8 megabyte ecco il video chi è qui? wow non l'hai beccato quindi che cazzo dici che andiamo? non l'hai preso? guarda sei proprio ciecato mamma mia vorrei che ci andiamo a mettere a correre sicuro con questa macchina ti ha sciammato ok zia levati di torno ma ragazzi e anche in questo gioco e anche in questo gioco ovviamente si arriva prima a Milano poi a Roma o a Firenze è un po' come il padrino quando stanno facendo il padrino diciamo la stessa identica cosa prima ci portano qui poi dobbiamo andare di là poi però in questi giochi ha senso guidare ok? rispetto al padrino che la missione tipo il gioco è fatto proprio per guidare il padrino è un gioco di macchina non ci giochi però il padrino no non mi puoi mettere a guidare i chilometri di strada ma come GTA non posso fare i chilometri di strada ma probabilmente non serva mai è una rottura di palla onestamente guidata però i giochi così e mi vanno anzi ma 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 mi sento trovi ma gli scrode panrino ma lì ma è una rottura di palla ma l'hai preso o l'hai presa l'ho presa perché sarà per caso l'ho ciesa si capisce? i due filmati giustamente non vengono migliorati vedete migliorare soltanto la grafia del gioco però no il filmato questo poi non lo capisco perché questa cosa ma dove dobbiamo andare perché la trattata della città non lo ciesa l'unica cosa che migliora ovviamente la strada la macchina e basta ovviamente quella scenografia se ci fai dentro si rompe la macchina è colpa mia che ci stanno i voli sotto dietro non ucciderla e non succede quindi non rompere le patte, non sparare, non ucciderà la gente fai bravo e non ti insegono, se ti insegono è perchè tu fai il cattivo e se fossimo colori non si devono davanti ai coglioni, sta gente che corre in mezzo alla strada macchina ti scopo ambientale ok arrivate a destinazione, missione, computer, ben fatto, quindi adesso posso salvare giusto salva partita ok prima non potevo salvare perchè la missione non era ancora terminata stronzata che stronzata quindi io spegnevo la playstation e ero costretto a fare di nuovo tutto dal cavo ma che puttanata in grande, tutto insieme bene non male che gli emulatori ci danno la bellezza di premere questo f1 che voi non potete capire ragazzi cioè io che ho giocato all'epoca questi giochi il salvataggio a f1 è stupendo cioè davvero non so quante volte mi sono scervellato per fare questi livelli ho provato mille e milioni di volte sapevano che saremo arrivati e sono sicuro mi stavano attendere, eravamo come anadre selvati che non poligono di tiro silenzio oh merda ma allora c'è una talpa fra noi ho detto silenzio si hai proprio ragione ci deve essere una talpa no 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 credi che sia l'autista non mi sembra di averti rivolto alcuna domanda abbiamo una talpa fra noi, questo è sicuro hai guidato molto bene stanotte grazie c'è qualcosa che devi dirmi? guido bene in tutte le notti te lo chiedo una seconda volta se c'è qualcosa che devi dirmi è meglio che lo fai adesso Slater Slater in una cella di San Francisco al fresco adesso spiegati meglio no è chiaro Slater era al corrente del piano e ha spifferato tutta la polizia pur di pararsi il culo in qualche modo è impossibile Slater, non me la racconti giusta voi non fareste mai nulla del genere, vero? no una domanda è semplice ti fidi più di Slater o di Tanner? niente è cambiato finiamo quello che abbiamo da fare qui e spostiamoci a noi i ragazzi si stanno accorgendo che siamo noi il problema ecco perché noi siamo il autista guarda caso riusciamo sempre a scappare dalla polizia che cazzo significa? non significa che io sono alleato della polizia se so scappare dalla polizia cioè è proprio perché è una mia bravura tecnica allora come è difficile pararsi il culo troviamo un lavoro quest'oggi andiamo a vedere che cosa cerca la vita gli uomini di Granger sono in città e hanno preso l'acchi stiamo mettendo insieme una squadra per andarlo a recuperare ma ci serve ancora un pilota capace di volare sull'asfalto come su una tavola da surf dobbiamo un pilota come sa volare con una tavola da surf che parolone che ha utilizzato ma stiamo terminando il gioco io poi non l'ho mai finito questo quindi non so se siamo alla fine oppure no però penso di sì dai se ne stanno accorgendo che sono alla tavola lucky a casa wow che bella ma com'è bello prendere pizza prendi a bordo gangsta occhio non ci penso e... questo fatto che devo fare sempre il cattivo la gente no i fatti bravo va vengono armi boom ma non è da ritorno ma non è da ritorno non c'è non c'è non c'è fatti ma non c'è ma non c'è stai ma non c'è Ok, va. Prendiamo... Ah, il Gangster! Non ho il Gangster! Guarda che so! Mago tizio! Mago tizio! Ma chi è un copio? Mi piace questo! Mi piace questo! Mi piace questo! Mi piace questo! Ma crediamo un po' di disparati! Genta anni che esiste queste cose ragazzi! Provera Genta anni che... Che puoi? Tu come va dentro? Mi schiavo scendendo una mazza di quello che dice! Non è stato attenzione! L'evoluzione si vede mai è proprio attenzione! Dopo tutti gli esercizi che mi hanno fatto fare a disposizione non ha mai ausenza! Che non mi ha svolto nel video! Cioè, io video normale che posso guidare sul driver! Ah, e stesso! Non capisco che dovevo fare il patente! Che era più difficile a fare un missione! Ho dovuto guardare! Ragazzi! Guarda di che pari che ho dovuto guardare la situazione! Non sapevo come si fa giù per il freno a mano! Esiste il triangolo che rifiuta a mano! Voi lo sappate! Che devo rallentare! Ha rallentato! Si, ma perchè? Se non arrivo proprio il punto esatto! Ok! Entrano dentro i muri la gente in questo gruppo! Ok! E ora escono dai muri! Giusto? Si! Escono dai! Ah! Escono in tre adesso! Si sono moltiplicati! Com'è dentro e dentro i muri? Si moltiplicano! Calma! Mostra la mappa! Ma è mignola questa mappa! Ma allora sono da un altro comune! Aspetta! Aspetta! Secondo voi ragazzi? Questo o quello? Ah! Penso quello è più vicino! Ma secondo me! Ah! Tengo! Tengo! Allora! Tengo! Allora ci facciamo questo! Diretti lì mi sono me! Aspetta! Qual è? Poi magari esiste qualche... Capito? Ci facciamo dopo! Ah! Adesso ci facciamo questo! Diretti lì mi sono me! Ah! Poi hanno preso Sleater! 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 Quello che c'era prima di... No! Ma adesso mi hanno... Guarda quelli di tutto! Buah! Incredibile! Sorry! Sorry! Ragazzi! Sorry! Davvero! SORRI! Pensavo che quelli... Una scorciatoia! Di tutto! Cacchio! Scorciatoia! Esistra! No! 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 Nicola! macchine maggiore la grafica maggiore magari qualcosa è importante da poter fuori perchè ok scendere, salire dalla macchina non dico sparare ma magari fare qualcosa dico interagire buttare sotto a qualcuno e la divertente la gente scappa e va dentro qui ragazzi i gracchiti a3 secondo me succederanno queste cose ma adesso non lo so se succederebbe anche la grafica ma per chi mi dice di una dettaglia non posso anticiparli fa qualcosa stiamo impedinando ok ok tutto fatto oh vabbè questo non è l'uomo ok ragazzi non ho capito perchè è successo una cosa comunque ho portato a termine penso la missione ne siamo 3 adesso ne siamo 3 ciao ragazzi ben fatto io sono un autista davvero molto bravo in poche parole cioè sono il migliore autista di questa città non c'è un autista meglio di me onestamente l'unica picca del salvataggio è questa che devo scrivere ogni volta polli perchè sennò non mi fa salvare ok vabbè se che scrivo una lettera non è bravo scrivere polli ma è che palle perchè lo devo ripetere ogni volta premix per continuare tipo mi scordo che mo la x è la x normale dopo che giustamente ogni gioco ha una sua x e quindi ragazzi grazie a tutti per la visione ovviamente ci vediamo in un prossimo episodio 20 minuti intensi di driver 1 però con un'ottima qualità alla prossima iscrivetevi eh non mi deludete